125 comuni tra Piemonte e Lombardia subiranno un razionamento dell'acqua potabile a causa della siccità più grave nella zona del fiume Po negli ultimi 70 anni. La neve sulle Alpi è completamente scomparsa e in alcune città non piove da più di 100 giorni. Il livello del lago maggiore rischia di essere il più basso dal 1946, quello del Po è di 3 metri più basso rispetto alla media. Isole e ampi spazi sabbiosi, talvolta si vedono sbucare erbe e cespugli secchi, il panorama non è di certo quello del letto di un fiume, eppure una volta in quei punti scorrevano le acque del Po, la desertificazione sta mangiando tratti sempre più lunghi e profondi del fiume e la siccità va avanti da tanto tempo che parlare di emergenza può sembrare addirittura riduttivo. L'agricoltura è il settore economico più colpito nell'area, il danno stimato è di circa un miliardo di euro e i prezzi per irrigare i frutteti sono qui intuplicati rispetto a due anni fa, una situazione tragica che secondo le previsioni meteo delle prossime settimane non sembra destinata a migliorare.